Allora Elena, che cosa festeggiamo oggi? La nostra Pasqua! E' brava, Ninco! Questa è la nostra Pasqua con pinze, firme e uovo di Pasqua. Pizze e cibo, queste sono solo di scena, non si mangiano. Voglio lasciare le pizze al momento. Esatto. Come è quella lì? Anche questa è buona. Quale le ho assaggiate? Mi è piaciuta. Questa qui io voglio assaggiarla. Questa non è mia. No, questa vale la nuca, sicuramente. Però mi piace. Ti piace? Sì. Va bene. Sì, mi piace. Patate e prosciutto. Passiamo l'altro ottavo. Di cosa? Di pizza. Due. Se di pizza non restringe molto. Di quale, dicevo? Questa è molto buona. Sì. Sì. Vai, mamma. Vado. Vado. Vado più che vuoi. Aspetta. Vado più che non fanno pezzo così. Mmmmm. Guardate. Che c'è? Perché tutti fanno una cosa. La Pasqua è Pasqua e Pasqua mi fa ridere. Allora, perché arriva la Pasqua, la nostra Pasqua. Prima cosa, questa bellissima gallina fatta di uova, da parte di Simona. Sì. Oh, la nostra bella amica. Oh, la nostra bella amica. Grazie, Sio. Guardate le caffè. Oh, la bella amica. Oh, la bella amica. Oh, la bella amica. Ma crediamo che se stai lì, copri questo... 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 io ho... Sì. 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 Qui c'è il sacchetto di nonno allenato... Nonno allenato... Nonno allenato. Ci sono... Oh, la bella amica. Sì. 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 E anche per me. Allora, sono tutte diverse. Cioè, uguali. Diciamo che i gusti di questa famiglia ti conto. Esatto. Diciamo che sono personalizzate perché sono per i gusti di ognuno, però... Ah, con ognuno... Questi sono gli stessi, coincidono e quindi... Nel caso non si vedete, con tutte le gestioni. Esatto. Oh, 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 oh. Acqua! Aspetta. Direi di non aprire tutte. No, direi di no. Sì. Come no? Come no? Stai sfidando la mia fame? Ancuno di voi si sfida. Sì, la stacca. Su, sulle mani. Sulle mani. Oh, yeah. Oh, yeah. Adesso abbiamo le uova. Questo povero uovo è storto. È storto? Guardalo. No. Eh, allora la potenprismo è uguale. No. No, ho dato un povero il disco. Io voglio anche un pozzo di colomba. Anch'io. Eh. No. Allora, chi mangerà i bambini della gallina? I bambini della gallina, sì. I bambini della gallina, sì. Sì, è molto bello. Sì. Vai. Sì, è molto bello. Sì, è molto bello. Ah, è così bello. Ah, lo bello! Sì, lo scelta. Sì, lo scelta. Ah, lo scelta. Le piante. che fortuna posso rubare un pezzo? no lo sai no non solo il duo è mezzo Udi no mezzo anche il card di è vero che la veramente il cioccolato è sempre buono guardate tu l'hai fatto? comunque è una foto dopo averci un po' in video ok vabbè io adesso mangiamo che vuol dire? me lo direte dopo non possiamo mamma non va a metterlo si può provare neanche dopo? no dopo si dopo si ma adesso no adesso no no se trama la lupitone cosa non penso che la farà voglio ne tagliare ma perché è molto appiccicata la carta ma se ho un cliente hai diviso di paghielo no perché non le mi pare che cosa? che cosa? la foto io se non le vi devo con una foto mi sento spaccata questa è anche spazza fammelo vedere com'è ma non puoi metterla su youtube mamma hai capito? bello non ti sono neanche recolto mi trovo non l'ha capito si che ho capito ho capito è certo che ho capito guarda conoscendoti non è certo nulla nella vita conoscendomi non è certo nulla nella vita ho capito ok che ho capito ho capito ho capito che ho capito bello ma zvolante che puoi girare qua ma io però adesso interrompo perché potrei mangiarmi che ho la colonna io io gioco il limo è il contrario è la bella la testa ma non mani non mangiate la cosa è farina è farina povero povero è un piccolo cosa? 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 non è mangiata stessa la testa benini fammi vedere aspetta vedete si muove Udi Si muove Ha fatto una Non è data Ha detto da schiantarsi Ma ci sono anche degli sticker Dai No vabbè E un codice QR Si è perché c'è l'app Si Buona una salomba Buona la cioccolata killer Si Ecco Bene Anche i miei sticker Bene Buona Pasqua 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 Mi sto incartando Buona Pasqua Buona Pasqua Buona Pasqua Buona Pasqua Buona Pasqua Buona Pasqua Buona Pasqua